Sulla crisi della giunta Corradino ormai il tempo stringe, la pausa estiva sia praticamente ormai esaurita. Il prossimo consiglio comunale è fissato per il 28 di settembre, data in cui si dovrà obbligatoriamente raggiungere un accordo appena il passaggio in minoranza o comunque senza il numero legale per la giunta e quindi la poltrona di Corradino rischierebbe davvero seriamente di ballare. Diversi dei scenari che si sono ipotizzati fin dall'inizio di questa crisi, inizialmente sembrava che Fratelli d'Italia puntasse a tre nuovi nomi poi sembrava bastasse l'ingresso di Davide Zappalà, ora inizia a proiettarsi uno scenario più concreto. Le prime conferme arrivano dal primo piano dell'ufficio di Palazzo Europa dove il sindaco Corradino intanto afferma che la disponibilità è al massimo per due nomi e quindi questo è ormai abbastanza concreto e lui sarebbe anche molto contento del rientro di Zappalà ma questo sembra un pochino meno certo. Il nome che sta circolando seriamente in questo ora è quello dell'ex assessore al bilancio proveniente dalla giunta gentile, Gabriele Mello Rella, uomo di esperienza politica e amministrativa. E ora un nuovo colpo di scena, l'ingresso di una donna perché ormai sembra abbastanza concreta e la prossima giunta Corradino salirà a nove nomi e a questo punto una donna è obbligatoria. Una donna che pare vestire alla toga, ci sono due nomi in corso, due nomi importanti che ovviamente militano tra le fila di Fratelli d'Italia e sono la famosissima avvocato Guarini che fa parte anche dell'associazione consumatori, insomma l'abbiamo conosciuta in mille occasioni e l'avvocato Maria Elena Balestrini. Una di queste due donne potrebbe seriamente entrare all'interno della giunta Corradino. Tutto deve essere deciso entro la fine di questa settimana perché ricordiamo il prossimo consiglio, il momento in cui ovviamente si votano i vari provvedimenti e la giunta Corradino deve obbligatoriamente avere la maggioranza dei voti, è fissato per il 28 di ottobre. Quindi giunta nove e l'ingresso a sorpresa oltre a Mello Rella di una donna. Nel frattempo però prende la parola anche il segretario della Lega Cittadina e consigliere regionale Michele Mosca. Il braccio di ferro di fatto continua perché non più tardi di ieri la Lega ha avanzato due proposte a Fratelli d'Italia, due diverse proposte di accordo mantenendo però la giunta a sette nomi e addirittura ipotizzando la rinuncia di un assessore. Naturalmente se parliamo di Mello Rella che pare ormai abbastanza certo, l'assessore che dovrebbe lasciare il posto è evidente con è uguale carica. Fratelli d'Italia con il referente che ha risposto proprio a questa proposta il parlamentare Andrea Del Mastro ha rispedito al mettente quanto avanzato dalla Lega. Chiaro però continua il consigliere regionale Michele Mosca che nel momento in cui la giunta dovesse arrivare a nove Fratelli d'Italia se ne dovrebbe assumere l'intera responsabilità. I nomi delle due donne stanno circolando in modo insistente e insomma nelle prossime ore entro la fine di questa settimana quindi la decisione.